In azione da Iello de Sabato la banda dei ladri acrobati. Anche l'altra sera, intorno alle 19, i malviventi hanno colpito in due zone diverse del paese. Via Brecciali, Contrada San Raffaele. Nel primo caso i malviventi sono stati messi in fuga dai condomini di un palazzo. A lanciare l'allarme una donna che aveva notato i topi di appartamento arrampicasse su un canalone nel tentativo di raggiungere il balcone dello stabile. Immediatamente è scattata la caccia al ladro anche da parte dei residenti, ma dei malviventi abili nel dileguarsi tra le campagne e nel buio della sera. Nessuna traccia. Chi abita nella zona avverte che anche nei giorni scorsi sono stati eseguiti dei raid. C'è paura tra i cittadini anche perché la banda si introduce nelle case, nonostante la presenza delle persone, soprattutto anziani, fragili vittime dei malviventi. Nel corso della stessa sera i ladri, probabilmente la stessa banda in azione a Via Brecciali, hanno messo a segno un colpo in via San Raffaele, il secondo in pochi giorni, ai danni di un appartamento della zona. Il furto è stato perpetrato mentre la proprietaria dello stabile era all'interno impegnata in cucina. Nonostante i controlli sul territorio dei carabinieri, i topi di appartamento continuano a tenere il paese sotto assedio, soprattutto nel fine settimana. Le vittime dei raid, che sono riusciti ad avvistare i componenti della banda, parlano di tre soggetti esili e abili nell'arrampicasse su canaloni e tubi del gas. La comunità di Aiello del Sabato è fortemente preoccupata per l'escalazione di furti. In due settimane sono stati numerosi colpi messi a segno dalla banda. La gente stanca, oltre all'incubo Covid, deve fronteggiare anche l'assalto dei malviventi.